Buon pomeriggio dalla TGR Sicilia. Anche se detenuto in regime di carcere duro, il boss Giuseppe Scarba ieri avrebbe retto il clan Scalesi-Laudani di Adrano nel Catanese dalla propria cella. La famiglia mafiosa è riuscita a infiltrarsi nel tessuto economico del nord-est Italia. Emerge dall'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania condotta dalla Guardia di Finanza. 26 indagati, 5 dei quali in carcere. Ci sono anche imprenditori sequestrati i beni per oltre 50 milioni di euro tra Sicilia, Lombardia e Veneto. Giuseppe Erdica. Un trolley pieno di soldi, centinaia di banconote da 20 e 50 euro custodite nei sacchetti di plastica. E poi una Ferrari da 200 mila euro, due Porsche, altre auto di lusso. Segni inequivocabili di quanto bene andassero gli affari del clan che aveva interessi, oltre che in Sicilia, anche in Lombardia e in Veneto. Il clan mafioso è quello degli Scalesi-Laudani, con base ad Adrano nel Catanese. Un capo, Giuseppe Scarvaglieri, che in un colloquio in carcere spiegava cosa fare in caso di problemi. In un'altra intercettazione, le minacce al telefono di un altro presunto mafioso a un prestanome che aveva osato contraddirlo. Modi spicci, ma un'organizzazione quasi manageriale. Fra gli indagati, che in tutto sono 26, ci sono anche due imprenditori, padre e figlio, che avrebbero agevolato il clan. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 50 milioni di euro fra società, terreni e appartamenti.